Signor Sindaco, normalmente quando si parla di piano triannale ci si riferisce a questo fantomatico libro dei sogni. C'è in questo piano triannale, approvato l'altra sera dal Consiglio Comunale, qualcosa che invece può fare in modo di definirlo un libro della realtà? Sì, assolutamente. Proprio in questo caso il piano triannale approvato ieri l'altro è un piano triennale che prevede una serie di interventi nuovi rispetto a quelli che già c'erano che possono essere realizzati concretamente perché sono già finanziati. Mi riferisco allo svincolo per l'accesso al Vertura Resorte, al secondo stralcio della condotta fognaria, al secondo modulo del depuratore. Mi riferisco ad un intervento molto richiesto dagli abitanti della zona, cioè lo svincolo in contrada bordea. Questo piano triannale è stato definito inconsistente dai consiglieri Turturici e Monteleone, mentre il resto dell'opposizione si è stenuta. Ecco, qual è la sua valutazione? Normalmente io a prese di posizione che poi si concretizzano in meri slogan, come è accaduto per la posizione assunta da Turturici e da Monteleone, preferisco non replicare. Se non fosse che in questa posizione sono contenute delle affermazioni molto gravi che io non posso accettare da chi ha amministrato questa città nel passato e sa bene come oggi si amministra. Una cosa erano i trasferimenti di Stato e Regione proprio al tempo in cui amministrava l'ex sindaco, oggi consigliere comunale Turturici, che ha espresso questa posizione. Una cosa è come amministriamo noi oggi, cioè noi in tutti questi anni abbiamo avuto 10 milioni di euro di finanziamenti in meno, di trasferimenti in meno dallo Stato e circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo in meno dalla Regione siciliana. Cosa devono aspettarsi i cittadini? La prospettiva dei comuni siciliani è una prospettiva molto più complicata dei comuni del resto d'Italia. L'Anci nazionale l'ha sposata e l'ha sposata come specificità tutta siciliana, tutta propria, perché noi non abbiamo subito soltanto il decremento dei trasferimenti del fondo nazionale, ma abbiamo dovuto subire anche una politica regionale che sul piano delle riforme non ha completato il suo percorso, mi riferisco per esempio alla riforma sui liberi consorsi, sul sistema idrico, sui rifiuti, ma non solo, ha di gran lunga più delle altre regioni tagliato i trasferimenti del fondo autonomia ai comuni siciliani. Mancano pochi mesi alle elezioni, la prima riflessione da fare è che PD ed NCD stanno condividendo la stessa battaglia per il SIA al referendum, anche se non si può negare che nel PD ci sia la posizione della minoranza che sicuramente è al centro dell'attenzione. Che cosa può significare questo? Uno si può immaginare che ci possa essere un accordo anche nelle periferie, malgrado comunque in questi anni siate stati su schieramenti opposti. Io ho sempre detto anche nei consigli comunali quando si sono svolti i dibattiti politici che secondo me una forza politica è di governo ovunque, cioè non può essere di governo a Roma e non esserlo in sede locale. Io sono convinto che se a Roma continuerà a perpetuarsi questa alleanza nata nel 2013 per grande senso di irresponsabilità dell'area moderata, oggi area popolare, che ha ritenuto che non si potesse andare alle elezioni in quel momento, particolarmente difficile per la nostra nazione perché questo avrebbe determinato gravissimi disastri. Se questa alleanza è destinata a perpetuarsi io non vedo la ragione per la quale non debba trovare delle sue modalità di attuazione anche a livello locale. Immagina un accordo che possa essere calato dall'alto? No, dall'alto non credo che si possa calare mai nessun tipo di accordo. Ripeto, lo spartiacque è il 4 dicembre, cioè il referendum. La data alla quale lei rimanda la sua decisione di ricandidarsi o meno? Che è il momento istituzionale al quale secondo me tutti dobbiamo guardare per poi capire quale può essere la prospettiva. Però se successivamente a questa data ci saranno momenti in cui questa alleanza si perpetuerà è chiaro che anche in sede locale bisognerà fare una riflessione in questo senso.